Ciao, mi chiamo Orlandi, ho 16 anni e frequento il corso di autoriparatore da due anni. Sin da piccolo ho avuto la passione per le auto, le moto, per la loro velocità, prestazioni. Se uno ha la passione, gli consiglio vivamente di farlo, perché anche qui a scuola ci fanno mettere le mani nei motori e al secondo anno già si va in stagio a lavorare. Sono Vincenzo e sono nel mondo automotive fin da ragazzo. Attualmente sono un docente di laboratorio meccanico. La difficoltà principale della mia professione è crearsi nel tempo una capacità diagnostica che ti permetta di analizzare dei sistemi complessi. Il bello è risolvere le problematiche. Ciao, sono Siria, ho 15 anni, faccio meccanica da due anni. È molto bello e divertente, ma soprattutto appena arrivi ti fanno smontare tutti i motori e capisci. Ciao, sono Francesco Marinverno, ho 22 anni. Ho finito da poco il mio percorso di formazione. Adesso è da quasi un annetto che lavoro come meccanico. Penso che la professione come meccanico ti insegni molte cose e che ti dia un metodo di lavoro che puoi anche utilizzare nella vita.